Genova e quindi quale occasione migliore anche se con un po' di caldo il trucco e tutto è un po' faticoso ma è molto bello ritrovare tutti e tuo figlio Chris una promessa Chris ha una grande soddisfazione appena compiuto 17 anni e sta viaggiando bene 17 anni vorrei dire una cosa su questa scuola se insiste sono noioso se l'argomento è qualcosa che mi tengo particolarmente al di là della musica quando si riesce a passare la propria passione ad un figlio e esercitarla assieme a me capita nel calcio ad esempio gioca il calcio con mio figlio che vuol dire suonare con il proprio figlio è una cosa straordinaria anche perché lui l'ha respirata da sempre la musica e la vita in studio e anche live venendomi a vedere quando era piccolo e poi chi è musicista a casa ha sempre a che fare con la musica e lui l'ha sempre vissuta così però io non gli ho mai chiesto e lui me l'ha sempre detto non gli ho mai chiesto poi di diventare musicista cioè ho desiderato che scegliesse da solo tutto quello che avrebbe potuto fare nella vita e lui mi ha detto mi è veramente piaciuto l'ho sentita questa cosa evidentemente gliel'ho trasmessa in maniera naturale non avrei mai imposto chiesto qualcosa l'avrei seguito qualsiasi scelta nessuna pressione nessuna assolutamente no mi fa piacere molto piacere è ancora una cosa più ancora più bella no quando c'è la pressione del padre alla fine sì credo proprio di sì così è stato fatto anche con me e mio padre per dire è stato un grande nello sport è stato campione italiano di judo quando ero giovane mi disse mi piacerebbe farlo ma preferi fare altri sport e altre cose poi mi sono dedicato alla musica anche lui non mi ha mai forzato eppure avrei avuto un bravo insegnante ma io penso che ognuno sia fatto per quello che è predisposto debba fare assolutamente ciò che vuole ricordiamo al pubblico il nuovo disco Platinum io l'ho ascoltato in anteprima è tra l'altro disponibile è giusto il tuo stesso? sì è disponibile assolutamente insieme anche ad altri dischi nostri e Platinum ha già ormai circa un anno ma ci tengo anche a presentare il nuovo singolo Hunted House uscito per Black Widow Records proprio oggi oggi in esclusiva qua c'è proprio la vendita diretta qua l'ho visto anch'io per la prima volta oggi e poi uscirà in digitale con video e quant'altro successivamente ma intanto oggi a livello di copia fisica su vinile in questo caso un Pitchard Flexi Disc 7 pollici c'è oggi bellissimo tra l'altro l'ho visto andatelo a vedere e acquistare che è una meraviglia grazie Freddi è sempre bellissimo l'onore avere te sempre sul palco grazie veramente di cuore a voi è una bella esperienza e ora ci rilassiamo un attimo eh sì te grazie mille grazie ancora ciao Freddi grazie a te dire già tanto tanto qua ci stanno preparando ma sì mio Freddi ecco siamo tutti tutti grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te